Il secondo reggimento Genio Quattatori Alcino e il reggimento logistico Giulia. Il secondo reggimento Genio Quattatori Alcino e il reggimento Genio Quattatori Alcino e il reggimento Genio. Il secondo reggimento Genio Quattatori Alcino e il 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 al commissario del governo per la provincia autonoma di Guantanamo. Grazie a tutti. La cerimonia è terminata. Si augura a tutti un buon proseguimento di giornata. La cerimonia è finita. Man möchte allen anwesenden einen schönen Tag. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.